Tra le tante possibilità dell'intelligenza artificiale c'è anche questa dell'outpainting in particolare stiamo parlando chiaramente di intelligenza artificiale applicata alle immagini che cos'è l'outpainting? Beh sostanzialmente ricostruire quello che c'è al di fuori del quadro oltre la cornice per immaginare un'immagine che è stata colta soltanto in una sua particolarità quindi la ragazza con l'orecchino di perla è all'interno di una cucina del 600 che effettivamente non ha microonde o frigo della Smeg possiamo fare la stessa cosa con Vermeer possiamo anche immaginare che al di là della Gioconda ci siano degli paesaggi un po' inquietanti o comunque che non ti aspetteresti c'è chiaramente qualcuno che ha avuto delle brutte sorprese cercando di immaginare l'intelligenza artificiale cosa ci fosse oltre il ritratto di Cartesi è venuta fuori una cosa che bella assolutamente non è ho provato a farlo quindi su di me ho preso una mia immagine e ho detto ma come fa l'intelligenza artificiale a ricostruire pezzi di corpo che non vede ed effettivamente ho utilizzato uno strumento che puoi utilizzare anche tu molto molto facilmente che si chiama Firefly esperimento di Adobe e con appunto un sistema di crediti per cui in pratica possiamo utilizzarlo gratuitamente poi sono ovviamente le stesse tecnologie che si ritrovano anche negli altri pacchetti Adobe come Photoshop e il risultato devo dire che è assolutamente interessante perché la ricostruzione di quella parte di corpo con le gambe con le scarpe e tutto quanto è coerente col tipo di abbigliamento che lui aveva visto con camicia e cravatta e quindi il risultato è assolutamente soddisfacente poi vedete ci sono diversi tipi di seggiole più o meno però ha capito che la posa era quella non sempre però sono venuti fuori risultati belli questo per esempio non è il massimo quindi dobbiamo chiaramente scegliere poi i migliori esiti comunque suggerisco di fare una prova suggerisco di utilizzare Firefly appunto per ricostruire pezzi di quadri o immagini che appunto è l'intelligenza artificiale a dover immaginare buona AI a tutti